andrebbe se si votasse oggi. Vi ricordo che domani alle 17 torniamo alla nostra non stop, si entra nella fase finale del secondo giro di consultazioni, siamo alla vigilia del voto europeo che riguarda anche la Lega e siamo soprattutto a 24 ore, a meno di 24 ore dal voto decisivo per la partecipazione del Movimento 5 Stelle al nuovo governo. Comunque dalle 5 del pomeriggio il nuovo segmento della nostra non stop sulla crisi e la sua soluzione, auspicabile che ci sia ovviamente una soluzione. Ma come andrebbe se si votasse oggi, cosa che non succederà? Comunque la Lega riguadagna lo 0,7 per cento, qualcuno legittimamente potrà metterla proprio in relazione con le ultime scelte di Salvini e dei suoi. Il Partito Democratico perde lo 0,8 per cento e va al 19 per cento. Fratelli d'Italia riguadagna la terza posizione, più 0,6 al 16,5. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,5 per cento e va al 15,8 per cento. Forza Italia guadagna lo 0,6 e va al 6,4 per cento. È evidente che hanno guadagnato in questa fase dalla crisi del governo precedente tutte e tre le forze del centro-destra. Riguadagna anche un'altra forza di opposizione, azione di Carlo Calenda, più 0,4 al 4 per cento. Dietro nella seconda pagina, sinistra italiana lascia lo 0,3 al 3,7 per cento. Italia viva il 3,1, 0,1 per cento in meno. Più Europa 1,9, meno 0,2. Verdi 1,7, meno 0,4. Ma ci sono altri numeri che incombono come ogni sera.